Diciottesima festa del volontariato a Valdobbiadene. Domenica 9 ottobre si è svolta la manifestazione più importante per tutte le associazioni di volontariato del territorio comunale di Valdobbiadene. Dopo la tradizionale apertura della festa con il passaggio della banda, la sfilata dei principali corpi ufficiali e il saluto da parte delle principali autorità, è avvenuta la consueta inaugurazione ufficiale della festa con il lancio dei palloncini dei bambini delle scuole paritarie. Via Libera quindi all'esposizione e presentazione delle attività di tutte le associazioni di volontariato. Quest'anno abbiamo ben 80 associazioni presenti qui in piazza di Valdobbiadene, ma non solo, ma comunque associazioni che operano sempre nel territorio. Quest'anno appunto diventiamo maggiorenni, sono 18 anni che si svolge la festa del volontariato, voluta dall'assessore di allora, la maestra Luciana Fuss, presidente oggi di un'associazione che collabora con il comune, e Angelo Tramet che è stato il fautore del coordinamento delle scuole materne. Siamo stati fortunati, oggi è una bellissima giornata nonostante le previsioni, quest'anno come novità abbiamo lungo via Piva la festa dello sport con le associazioni sportive e per il secondo anno consecutivo il concorso pittorico in Villa dei Cedri. Quest'anno poi inauguriamo il vicolo dei nonni dietro la casa di riposo e abbiamo voluto dare questo omaggio ai nonni che anche loro danno una sorta di volontariato, un aiuto alle famiglie, dei propri figli, è veramente un prezioso aiuto che danno a tutte le famiglie, quindi abbiamo voluto ringraziare così i nonni. Ci sono tante novità quest'anno, in più una novità particolare. Sì, noi siamo l'associazione culturale e musicale Giovanni Battista Botti e la nostra associazione nasce accogliendo un desiderio espresso da Don Marcello prima di lasciare la nostra parrocchia. Lui infatti aveva proposto che venisse creata un'associazione musicale appunto intitolata Giovanni Battista Botti. La nostra associazione ha sede presso la scuola primaria paritaria Santa Maria Assunta, incorpora i laboratori di musica nati già da diversi anni all'interno della scuola. Qui noi troviamo a Valdobiadene un estratto, un estratto che in realtà di una mostra che occupa, fa partecipare 14 aziende artigiane che vanno da Bassano del Grappa a Vass, quindi prendono praticamente il territorio della Pedemontana, Veneta, Trevigiana, e li fa dialogare insieme e fa vedere allo spettatore come artigianato vuol dire anche eccellenza produttiva, che sta a metà strada tra l'elaborazione della tradizione, della storia, di una cultura, di un territorio all'innovazione, perché noi abbiamo persone, aziende che lavorano nel settore della tradizione, quindi come la tradizione della ceramica, e però inseriscono l'innovazione attraverso l'utilizzo di designer piuttosto che di intuizioni date dalla tecnologia. Il volontariato non è solo artigianato, ma anche sport e arte. In cocomitanza con la manifestazione, quest'anno si è tenuta anche la festa dello sport, con numerose associazioni del territorio presenti. La manifestazione si è tenuta lungo Via Piva, al termine della quale si è potuti giungere all'interno del parco di Villa dei Cedri, in cui si è tenuta la quarta edizione del concorso pittorico Dentro il Paesaggio. Io sono Ojan, lui è Dominic, quelli che vedete dietro sono i break decor. Praticamente poco tempo fa ho iniziato a collaborare con la cooperativa Chiricù, ho fatto un'attività e mi hanno gentilmente invitato qua a Valdo Biadene per fare questa giornata, dove principalmente noi mostreremo che cos'è l'hip hop, quindi quello che facciamo, per dare ai ragazzini uno spunto per un'attività potenziale da svolgere nel loro tempo libero e da portare avanti come passione. Io invece sono Dominic e vengo qui a portare un po' di freestyle, che è una parte più piccola del rap, dove di solito nel rap ci sono le canzoni, io porto il freestyle, che è un modo di improvvisare un testo su una base. Venite tutti a sentire, siamo carichissimi, i ragazzi sono caldi. Ragazzi siete caldi? Sì! Mazzo! Allora, noi come associazione ci occupiamo del Banco Elementare ed è una convenzione con il Comune per i noni vigili eccetera, però oggi mi premeva pubblicizzare un progetto a livello regionale che ci è stato finanziato. Allora, siamo insieme ad una cooperativa di tipo B che accoglie ragazzi che hanno problemi di tipo psichiatrico che producono delle bellissime collane o comunque oggetti con la carta di recupero. Quindi è anche educativo e possono stare al bagnato, diciamo. E poi abbiamo sempre in relazione a questo progetto un accordo con un'altra cooperativa che ha un negozio di alimentari, è stato aperto apposta per l'inserimento di persone svantaggiate e di persone che non hanno più lavoro. Quindi sono attività queste che sono molto utili all'interno di una comunità, insomma, specialmente a giorno d'oggi il cui lavoro è importante. Il progetto della musica di insieme percussioni è il progetto della musica di insieme moderna. Consiste nel mettere insieme ragazzi che suonano dalla batteria al pianoforte e creare, diciamo, una band che suona standard, jazz, ma anche rock, ma anche altri generi musicali. Noi come Scuola di Musica crediamo molto nella musica di insieme, crediamo che la musica vada fatta insieme e quindi puntiamo molto sulle lezioni appunto fatte collettivamente ai ragazzi. Partiranno dei progetti, sempre per la musica di insieme, di jazz ensemble, dove appunto si affronterà questo genere musicale, sempre curato dal maestro Marco Spinetta, che è l'insegnante di chitarra, il quale darà vita anche a un ensemble di chitarra. E poi successivamente, contemporaneamente, in collaborazione con la classe di canto, ci sarà la musica di insieme, pop, dove si affronteranno appunto i brani di musica moderna, pop e quant'altro. Qua abbiamo la casa di Carla, questo è il dono, che stiamo qua, qui si sta in compagnia, ci si guarda la televisione, questa è la parte più migliore della casa di Carla, perché abbiamo la parte migliore, di certo. e questa è la camera delle donne, che tutto è l'operatore, qui sta, solo l'operatore. Qui abbiamo la camera dei uomini, dei uomini, così, e poi personalmente verranno a vivere altre persone. a vivere altre persone.